Salve a tutti ragazzi e bentornati su Match Tuning Dopo il precedente video di unboxing della radio per il mio BMV Oggi andremo finalmente a procedere con l'installazione Quindi ci sarà una fase di smontaggio di tutta la radio originale, della plancia, un po' di cosette Successivamente andrò un po' a studiare la situazione, quindi tutto il livello di cablaggi Dove posizionare le varie cosette e installazione della radio Il lavoro è veramente tanto, quindi l'unica cosa che vi voglio ricordare è che in descrizione Trovate tutti i link della radio e del sito della X-Trons Così da poter andare a visionare eventuali prodotti Detto questo direi di cominciare Ok ragazzi, come primo passaggio potete già aver notato che manca il listello superiore della radio In quanto l'ho smontato precedentemente Dato che nel momento dell'ordine della radio ho fatto delle foto allo spinotto dietro Per dare l'alimentazione alla radio E quindi non l'ho rimontato Comunque vi lascio un link qui in alto a destra Dove faccio vedere come si smontano i due listelli È molto semplice Per rimuovere la radio ci sono sostanzialmente due viti Una e due Sono delle viti che vi faccio vedere a croce Queste sono le viti, non so se metterò mai a fuoco Ok Ce ne sono due Sostanzialmente poi si sfila Viene via Qui dietro c'è il cablaggio Che possiamo andare A rimuovere Secondo step Dobbiamo eliminare La console dell'aria condizionata Che andremo poi a posizionare Qui sotto Sono uscito Dopo tante madonne a tirare via La console dell'aria condizionata Da qui Prima si trovava in questa posizione E l'ho switchata nella parte sotto Ancora non l'ho fissata Perché non so Metti caso che la devo ritogliere Per fare qualche fitment La lascio così per comodità Per ora Next step Ho visto che per montare la radio Bisogna togliere Questa diciamo Gabbietta di plastica Che serviva per tenere La console dell'aria condizionata E la vecchia radio originale Per poter togliere questa Bisogna togliere La mascherina Delle bocchette dell'aria E' un bel macello Quindi Ci provo Per quanto riguarda Il sensore Del gps Lo andrò a collocare In questa posizione Qui Che diciamo E' un po' Quella più nascosta possibile Farò passare il cavo Sotto Praticamente tutto Dietro al vano portoggetti Lo farò scorrere Lungo il tunnel centrale Ho già fatto passare Un cavetto Per poter Passare il cavo Da sotto A dentro La plancia Così da Non dover smontare nulla Metodo diciamo Più veloce possibile E ho fatto passare Il cavetto Del sensore Del gps E ho fatto passare Bene Il cavetto Della retrocamera Ho collegato Dietro la radio Tutti i vari Tutti i vari cavetti Quindi Alimentazione Cavetto Della retrocamera I due usb E poi Un cavetto Della Della canvas E il cavetto Del gps Quindi al momento Tutto quello Di cui ho bisogno È collegato Qui alla radio Io so che Morite Dalla voglia Di vedere Funzionante Questa radio Quindi Adesso Intanto Mi spengo Queste luci Così ci sta A meno di presto Possibile E andiamo A girare il quadro Bam Rileva Ovviamente La portiera Aperta Noi Facciamo così E questa è la radio Bellissima Veramente Ci siamo Con tutte le sue schermatine Devo capire Ancora Come funziona Ma lo scopriremo In un secondo video Comunque la radio Funziona Bene Ok ragazzi Siamo giunti Quindi Alla fine Del video Ho montato Tutto Tutta la plancia Ho finito Di fare Tutti i piccoli Accorgimenti Del caso E quindi È l'ora Di farvi vedere Effettivamente Come è uscito Il lavoro Quindi Bando alle ciance Guardiamo subito Voglio semplicemente Aggiungere Una nota Del quale Non ho parlato Prima nel video Mentre Montavo la radio In quanto Comunque sia Non ho fatto Una clip Di registrazione Mentre sganciavo L'aria condizionata La console E la bocchetta Dell'aria sopra Diciamo Non ci sono viti Per farlo Quindi basta Con la forza bruta Tirare fuori La console Per esempio Vi faccio vedere Al volo Infatti È retta Da questi due ganci Qua sopra E se non sbaglio Anche sotto Quindi Insomma Ci vuole solo Tanta forza bruta E mentre Lo facevo Visto Ci ho perso Tanto tempo Non ho registrato Stessa cosa Per la mascherina Una volta che Abbiamo tolto Tutto sotto E tutte le viti Anche questa Per rimuoverla Basta tirare Con veramente Tanta forza Verso fuori Comunque vi lascio Due link Di due tutorial Già esistenti Tutto youtube Che ho utilizzato Io per Appunto Togliere queste cose Questo è Il lavoro Finito E Diciamo Sì Ovviamente Qui Questa è la pellicola Che è Mezza Andata Però Però ecco Per il resto Fitta Veramente Bene Questa radio Sembra Originale E' Veramente Tanta roba Veramente Bella 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 Diciamo L'unico Difettuccio È che Non fitta Benissimo Il listello Su questa parte Però Magari In futuro Cercherò Di Farlo Fittare Meglio E capire Magari Se è un problema Di radio O Magari Semplicemente Il gancio Dietro Che si è Che si è rotto E quindi Niente Accendiamo La macchina Così Vedete Un pochino La rapidità Di questa Di questa radio L'ho usata Oramai Per parecchio tempo Mi ci trovo Veramente bene L'unica cosa Che non mi piace Moltissimo È questa User interface Iniziale Però Insomma Alla fine Ci si abitua E L'unica cosa Che utilizzo Di più Alla fine È l'Apple Carplay Che in questo momento Non posso farvi vedere Perché sto Registrando Questo video Con il telefono E quindi Si stopperebbe Il video E però Per il resto Comunque Funziona tutto Anche Ovviamente L'audio E l'unica cosa Che non funziona È La radio Le stazioni radio Infatti Come potete sentire C'è un rumore Di fondo E penso Che alla fine Sia Sia un problema Sia un problema Semplicemente Della mia macchina In quanto All'antenna E l'amplificatore Tutto In un unico box Dietro Alla macchina E diciamo Rende un po' più complicata L'installazione Quindi non ho potuto Collegare l'antenna Dietro Alla radio Quindi cercherò Magari Di risolvere Se trovo Una soluzione Ovviamente Ve la comunicherò Per il resto Comunque Funziona tutto Qui abbiamo La funzione Del browser Si ci è stato In vuoto Perché una volta Mi sono guardato La formula 1 Mentre stavo In macchina E insomma Qui abbiamo Google Maps Funziona Veramente Alla grande La musica Bluetooth E quant'altro Quindi ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Ovviamente Questa radio La potete trovare Sul sito Xtrons Di cui Lascio il link In descrizione Mi raccomando Se il video Vi è piaciuto Lasciate un bel Mi piace Ma soprattutto Per supportarmi Iscrivetevi Al canale E soprattutto Seguitemi Su Instagram Dove Lascio le storie Dei contenuti Che poi Vado a pubblicare Su YouTube Detto questo Mitch Tuning Vi saluta Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti